Pace e bene a tutti. Quindi continuiamo quest'oggi commento alla lettera che Padre Pio ha scritto a Padre Agostino il 19 luglio 1915 a partire da pagina 612 del primo epistolario. Già in precedenza abbiamo sottolineato o meglio ricordato i contatti di Padre Pio con gli scritti di San Giovanni della Croce. Padre Pio si ispira a questo autore per descrivere quella che è la sua situazione spirituale. Perché Padre Pio vuole descrivere questa situazione? Perché lui cerca di capire qualcosa in questo atteggiamento di Dio che porta confusione nella sua vita. È possibile che Dio porti confusione nella vita di qualcuno? Detto così in teoria non è possibile, però in realtà molto spesso noi abbiamo delle aspettative da Dio. O vorremmo che Dio ci dicesse qualcosa che forse non arriva? Ecco, allora in quel momento effettivamente si sperimenta una grande confusione. E guardiamo proprio in particolare oggi come Padre Pio vive questa esperienza e soprattutto a quali autori si rifà per comprendere questa sua confusione. Siamo a pagina 612 del primo epistolario, la lettera continua. Ma Padre mio, io non valgo a descrivervi il mio stato attuale. Se volete in breve descritto tutto per intiero il mio stato interiore, fermatevi un po' su quello che di se stesso diceva il profeta Giona. Perché quello molto esattamente va detto pure per il mio presente stato. Voi sapete la storia del profeta Giona, inutile che la ricordi. Questo profeta che era stato inviato a Ninive a annunciare la conversione, ma gli ebrei con i niniviti non avevano dei buoni rapporti e lui diceva se io vado lì si convertono e Dio li perdona. Allora no, non ci vado così Dio distrugge la città. E in realtà Dio non accetta questo discorso. E così mentre Giona è sulla nave si scatena una tempesta. Si tira la sorte, il colpevole di questa tempesta è Giona, allora lui stesso accetta di essere buttato a mare. È un racconto, è chiaramente un racconto biblico. E buttato nel mare finisce nella pancia di una balena. E in questa pancia della balena Giona prega così. Tu mi gettasti nel profondo del cuore del mare e i gorghi mi travolsero. I gorghi e i flutti mi passarono sopra. Eccomi scacciato dal tuo sguardo, ma pure ancora vedrò il tuo santo tempio. Si noti bene padre mio, continua padre Pio, fra parentesi, che la speranza neanche da me si è bandita. E continua Giona. Mi ingoiarono ed invasero le acque sino all'anima. L'abisso mi circondò. Il pelago comprì il mio capo. Discesi basso sino alle radici dei monti, i catenacci della terra mi si chiusero per sempre. È il grido di Giona che poi otterrà salvezza e il Signore lo porterà sulle spiagge di Ninive dove avrà, dove predicherà e dove la città sarà convertita. Però di fatto, padre Pio, si sente in questo pelago, in questa distruzione interiore, in questo abbandono interiore, si sente soffocare. Infatti continua. Gittate ancora un po' lo sguardo in ciò che di se stesso dice il real profeta. Salvate mio Signore, perché le acque sono entrate fino all'anima. Sto confitto nel profondo del fango, ne posso sostenermi. Cercai sorreggermi nel mare e la tempesta mi annegò. Mi stancai dal gridare aiuto. Le mie fagli ucci diventarono rauche, perdetti gli occhi che tenevo fissi con la speranza nel mio Dio. Ecco, padre, la fedele esposizione del mio deplorevole stato, espressa così esattamente da questi due grandi santi dell'antico patto. Il mio potere è angosciosissimo che solo potrebbe rassomigliarsi alle sofferenze di colui al quale si togliesse ogni aria da respirare. Ecco, ci sono molte cose interessanti in questo testo. Innanzitutto questa grande capacità descrittiva di padre Pio che dicevo prende in qualche modo dagli scritti di San Giovanni della Croce ma poi reinterpreta al suo modo. Il mare in questa immagine la fa da protagonista. Il mare perché il mare sin dalla cantichità è il simbolo della morte di disperazione perché nel mare sei solo nel mare affoghi e basta non hai altra speranza. Ultimamente un autore ha presentato un po' la differenza tra la notte oscura e la vita normale del cristiano. Nella vita normale del cristiano il cristiano è come se fosse in mezzo a questo mare con la sua barca e deve solo alzare la vela e alzando la vela cosa succede? Che il soffio dello spirito lo spinge verso la riva. Se lui non vuole alzare la vela se lui cerca altri mezzi è chiaro che la barca si dispense. Per cui deve avere il coraggio di lasciarsi guidare dallo spirito. Quello che è nella notte oscura sì, viene guidato dallo spirito ma non ha la barca. E lì deve fidarsi solo di Dio che può spingere col suo soffio questa persona verso la riva ma non ha nientrato. E allora si sente prima di tutto affogare sente che la sua vita crolla e sembra quasi distrutta. Ma poi Padre Pio continua Per carità non vogliate trovare esagerata questa mia similitudine che anzi tengo ad aggiungere ad onore del vero che essa pallidamente viene rassomigliando un tal patire. In vero tutto è tristezza in me e non vi è parte alcuna che non vi sia in alta afflizione. La parte sensitiva è posta in un'amare e terribile aridità e le potenze tutte dell'anima in un vuoto di tutte le loro apprensioni che mi riempie in un eterno spavento. Che cosa avviene? Ecco, ad opera di Dio avviene che l'uomo anche se è credente anche se contempla la grandezza di Dio attraverso le immagini guarda Dio e in qualche modo questo sguardo ritorna su se stesso in senso positivo potremmo dire l'uomo è sempre incentrato su se stesso incentrato su se stesso perché chiede a Dio che riempia il suo cuore chiede a Dio di essere felice. A questo punto nella notte oscura è come se Dio spostasse l'uomo di lato e disse al centro ci devo essere solo io non devi cercare da me la felicità devi cercare me e basta perché diciamo queste cose un po' per descrivere la storia di Padre Pio ma un poco perché guardate queste due immagini ci danno le immagini di quella che è la vicenda dell'umanità l'umanità ha perso la vela l'umanità non riesce più ad avere la forza dello spirito e sembra affogare e allora è solo in questa fiducia in un Dio che ti spinge vicino alla riva che l'umanità può trovare il senso della sua esistenza una fiducia che però si avrà solo se io mi dimentico di me stesso e mi fermo a contemplare la grazia di Dio qualche volta il peccato è proprio questo per quanto uno possa credere cercare di comportarsi bene però alla fine è sempre un pochino concentrato su se stesso anche nelle piccole cose ritorna sempre la voglia di concentrarci su noi stessi invece dice Padre Pio occorre veramente lasciarsi andare mettere Dio e guardare Dio soltanto mettere al centro Dio e guardare Dio soltanto ma perché avviene tutto questo Padre Pio dice sopra di me si è confermato il furore dell'artissimo e tutte le onde di flutti nel dì del profeta si scaricano sopra di me in qualche modo c'è questo desiderio di Dio di purificarlo ma non solo di purificare lui Padre Pio partecipa alle sofferenze di Cristo perché vuole che tutto il mondo venga purificato e trovi salvezza attraverso il suo sacrificio ebbene alla fine Padre Pio ha un'espressione molto delicata molto bella la leggiamo insieme perché sembra un po' la nostra storia io prego ma la sua mano sembra mi respingermi egli mi confina fra le tenebre come i morti sempiterni la sua mano va innalzando intorno a me un edificio che tutto lo circonda di fiele e di fatica la sua mano non si può tollerare e la mi stringe sempre più forte nei suoi ceppi questa benedetta mano tutto mette so sopra tutto infrange e tutto mi lascerà desolato cosa vorrà farne il Signore sarà in darno il mio fine nelle sue vie e mentre dal fondo del mio cuore innalzo a lui la mia prece a voi mi rivolgo con schientezza perché con sincerità mi parliate del Signore Padre Pio non ha altra speranza che è il direttore spirituale gli parli di Dio ecco il massimo dell'umità di questo frate sa bene che Dio lo ama sa bene che Dio gli vuole bene e continuerà per tutta la sua vita ad amare Dio ma è così umiliato ed è così piccolo nella sua vita che non ha nemmeno il coraggio di sentire dentro di sé la voce di Dio ha bisogno di qualcuno che gli parli ecco a questo livello di santità il Signore poi schiuderà Padre Pio le grandi meraviglie del suo amore pace e bene a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.